dovrebbe entrare Mikael Pekacek applausi comunque per Matic invece entra Paragiotis Armenakas è Armenakas il giocatore incaricato da Mattiussi a dare maggior verve all'attacco Taipuntar con lo scorpione serve Armenakas Armenakas può andare al tiro Banos il tiro deviato occasione, chance per l'australiano spera che veni recuperata da Yankton ancora Armenakas prova a inventare doppio passo Armenakas cerca la soluzione personale deve tornare da Yankton lo fa bene la soluzione personale è la soluzione personale Ciao 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 Ciao